Resterà aperta sino al 4 febbraio la mostra dal titolo Artifizio, promossa dall'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L'evento è curato da Francesco Finotti e Marcello Francolini, rispettivamente docenti di plastica ornamentale e stile, storia dell'arte e del costume. La mostra raccoglie i risultati del ciclo di corsi brevi dall'aula al cantiere, materiali, tecniche, stili della decorazione, a cura di Finotti e dall'artista decoratrice Silvia Moro. In realtà il percorso espositivo funziona come un dispositivo quasi di colore perché si entra e ci si trova in questo bosco con queste nuanze blu e poi dal fondo verso l'ingresso questo bosco mostra una luce diversa e quindi si va sulle tonalità calde del rosso. Il ciclo di incontri ha offerto agli studenti l'opportunità di scoprire le infinite possibilità di interpretazione che offre la tecnica della decorazione ma anche i diversi strumenti utilizzati nella cantieristica al fine di far emergere gusto e stile personale. Dove la scuola di decorazione ha coinvolto gli studenti in questo progetto che si chiama dall'aula al cantiere materiale tecniche e tecnologie della decorazione. Da questo progetto sono nati degli elaborati che abbiamo deciso di esporre perché il risultato è molto interessante.